Ciao Siglia! Ciao Claudio! Senti, ho una domanda che mi attanaglia il cuore da sempre. Allora, da consulente non la so, quindi la risposta è accertamento tecnico-preventivo, consulenza tecnica-preventivo, consulenza tecnica. C'è qualche differenza? Cioè, a livello legale, se accendo una delle tre, cosa cambia? Allora, da un punto di vista di consulente è normale che non ti interessi di tanto, perché tu comunque in ogni caso, con queste tre ipotesi, intervieni come consulente, si parte di solito. Ma nel processo, nell'ambito del processo, stiamo facendo delle cose ben diverse. Allora, con l'accertamento tecnico-preventivo stiamo precostituendo una prova in vista di un futuro processo. Quindi stiamo cercando di fare una fotografia, una situazione, e questo ci potrà tornare utile in un secondo momento. Con la consulenza tecnica-preventiva, è uno strumento che è stato introdotto qualche anno fa con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, si fa un passo in più rispetto all'accertamento tecnico. Cioè, si chiede a un consulente incaricato dal giudice di, appunto, accertare la situazione, mentremente anche l'entità di un danno, e gli si dice anche, guarda, che se tu in quel contesto riesci anche a trovare un accordo tra le parti, a conciliarle due, a conciliarle, fallo, procedi, il verbale con cui concili, potrà costituire poi il titolo esecutivo, e quindi si potrà iniziare l'esecuzione, e via dicendo. La consulenza tecnica, invece, entra sempre in gioco un consulente d'ufficio, però siamo nell'ambito di un processo vero e proprio, quindi siamo nella fase di istruzione provatoria, dove il giudice ha bisogno di capire una questione molto tecnica, accertare fatti controversi molto tecnici, se io non me la sento, non capisco niente di informatica, non capisco niente di macchine, sai che c'è il nomino con il mio ausiliario, nella sua dispecie del consulente tecnico d'ufficio, e sarà lui a fare gli accertamenti del caso. Quindi riavvolgerlo, per me il perito è sempre rispondere a un quesito posto dal giudice, in contraddittorio, CTU e due periti, quindi per me è uguale. Dal punto di vista strumentale per un avvocato cambia il momento in cui accendo lo strumento. Il momento è anche l'esito. È anche l'esito. Chiarissimo, grazie. Ciao. Ciao.